No, vabbè, ricordo di Gesù se solo per la semifinale che abbiamo perso contro il Benfica, poi non c'erano altri episodi se non il fatto che c'è un rammarico di non aver potuto giocare la finale di Europa League in casa qui a Torino, credo che, anzi spero non ricapiterà più perché facciamo sempre la Champions, spero un evento così poi uscito in quel modo a Istanbul e avere l'opportunità di vincere la finale in casa ha un pizzico di rammarico su quella partita.